Mercoledì l'Italia saprà a quali decisioni sia giunto il governo per consentire ai cittadini di celebrare le ricorrenze natalizie in famiglia, ma in modo da ridurre al minimo il rischio di ritrovarsi a gennaio nel pieno della terza ondata di Covid. Il nuovo DPCM di dicembre, che sarà in vigore da venerdì e che conterrà anche le disposizioni relative ai 15 giorni cruciali, da poco prima del Natale all'Epifania, conterrà con tutta probabilità anche un periodo di blocco totale degli spostamenti tra regioni. Date probabili dal 19 o 20 dicembre fino al 6 gennaio, anche tra quelle in fascia gialla. Obiettivo è impedire ciò che è accaduto la scorsa estate. Dunque chi vorrà trascorrere le vacanze nella seconda casa al di fuori della propria regione dovrà farlo prima di quella data. Martedì il governo si riunirà per decidere se concedere deroghe, che saranno comunque limitate al massimo, ad esempio per il ritorno nella casa di famiglia di una persona per trascorrere le feste con i genitori anziani. Ma anche per gli studenti universitari che hanno spostato la residenza nella città in cui studiano e per i coniugi e i partner conviventi. Chi invece vorrà andare all'estero dovrà sottoporsi a ritorno a una quarantena di 15 giorni. Un deterrente per fare in modo che a mettersi in viaggio sia solo chi è mosso da reale necessità. Sarà inoltre confermato con tutta probabilità il coprifuoco alle 22. Su questo punto le cariche di governo stanno ancora discutendo, soprattutto riguardo un'eventuale proroga alle 24 a Natale e a Capodanno. Ma questa concessione difficilmente passerà. L'obiettivo fondamentale nel mese che sta per iniziare è scongiurare qualsiasi rischio di assembramenti e di contatti stretti tra persone.